S'intitola app. Dopo il debutto al Teatro Sistina di Roma, lunedì 26 approderà al Teatro Nazionale di Milano per la prima di due tappe. Sul palco il comico toscano è accompagnato da cinque attori con sindrome di Down e un autistico appartenenti alla compagnia Mayor von Prinzius. Funwick li ha incontrati. Parte però una sequela di boicottaggi e rocambolesche interruzioni in cui gli attori fanno irruzione dimostrando di essere molto più abili di lui. Nel corso del tour teatrale sarà realizzato un docufilm, pronto per agosto prossimo, che racconterà l'avventura di questi attori molto speciali, il legame con Ruffini, la loro relazione con il mondo dello spettacolo, i momenti dietro le quinte e le esibizioni sul palco. Guarda la foto .